Nella puntata di mercoledì 30 marzo 2016 di Velvetry, Alberto vuole fare una sorpresa davvero speciale per il compleanno di Anna. Il regalo più bello in atteso, tuttavia, sarà la collaborazione tra Filippa Eia e la Galleria Velvet, in quanto Anna, sotto falso nome, disegnerà una nuova collezione. Tutto sembra procedere a meraviglia, ma Cristina ha in serbo un'amara sorpresa per i due amanti. Un inaspettato riavvicinamento tra Cristina e Raul, da sempre grandi amici, ma soprattutto l'ingeguità dello stilista porta a rovinare quell'unione creativa tra Anna e Raul che avrebbe potuto salvare la Velvet. Raul svela che Anna è il misterioso stilista con cui sta collaborando e Cristina gli rivela la relazione tra lei e Alberto. Questa notizia scatenerà un forte sentimento di rabbia e Raul, che sentendosi per a dito e per rispetto dell'amica Cristina, metterà Anna con le spalle al muro e lasciandola da sola con la realizzazione della collezione. Che ne sarà di lei e della collezione NingTedai?